Saluto e do il benvenuto in Calabria a tutti gli onorevoli che sono venuti qui oggi a fare una riflessione, a tutti gli operatori dell'informazione e naturalmente porto anche il saluto del Presidente Scopigliti che non può essere qui per impegni concomitanti oggi. I complimenti, i complimenti al Corecom, al suo Presidente, all'intero Consiglio di Amministrazione per aver voluto questo momento alla vigilia anche di un appuntamento importante per la nostra regione, ossia quello del passaggio dall'analogico al digitale terrestre. È una grande sfida, regioni anche più importanti e più attrezzate di noi hanno avuto proprio delle difficoltà e allora questo momento può essere un momento di grande dettaglio per scendere a fondo nei particolari di quello che sta avvenendo. Devo dire che dall'inizio, da quando ci siamo insediati, abbiamo sollecitato proprio all'aggiunta regionale per i tanti fondi comunitari che noi abbiamo a disposizione di prevedere di stare vicino alle aziende private calabrese nel settore televisivo per andare a individuare anche delle opportunità di finanziamento. E proprio di questi giorni, lo vedevo su internet, il 18 settembre, la pubblicazione di un bando pari a 12 milioni di euro che riguarda naturalmente anche non solo le imprese del settore radio televisivo ma anche le altre imprese per naturalmente nel regime dei minimi stare vicino a questo che deve essere un grande patrimonio che noi dobbiamo tutelare. Noi in Calabria abbiamo quasi una quarantina di tv private che naturalmente hanno tantissime difficoltà e in questa sfida del cambio gli investimenti che dovranno produrre avranno serie difficoltà anche dal punto di vista economico. Allora il sostegno della regione vuole andare in questa direzione e cercare di stare vicino. La comunicazione è completamente cambiata soprattutto negli ultimi anni ci sono state evoluzioni incredibili, forse il settore dove c'è stata più evoluzione con l'avvento delle nuove tecnologie, di internet, dei nuovi sistemi anche di comunicazione che riguardano il digitale, che riguardano anche le web tv, che riguardano i messaggi nuovi che arrivano e si è passato sempre di più verso la comunicazione via internet. Allora noi dobbiamo essere pronti perché per quanto ci riguarda in Calabria la comunicazione ha un ruolo essenziale. La comunicazione è vera, libera, quella che proietta anche un'immagine positiva della nostra regione. è vero, in Calabria ci sono tante emergenze e tante problematiche che non possiamo trascurare ma noi vogliamo anche far emergere la parte migliore della nostra società perché abbiamo tanti talenti, abbiamo tante potenzialità, abbiamo tante possibilità anche di crescere e l'informazione è decisiva in questa sfida. Noi non abbiamo né reti televisive nazionali presenti al sud né testate di grandi giornali presenti al sud e quindi anche attraverso internet e quindi avere la possibilità anche di valorizzare, di sostenere la banda larga e tutto quello che ruota attorno alla banda larga può essere una straordinaria opportunità di miglioramento del nostro tessuto. Al di là dello sforzo che noi stiamo conducendo in questi anni se non c'è un sostegno per far emergere le cose positive che si stanno facendo è difficile poi riuscire a raggiungere i cittadini e avere anche quel rispetto tra istituzioni e cittadini che è essenziale. Al di là poi del merito delle questioni io penso che questo sia essenziale e noi lo dobbiamo fare. Noi abbiamo bisogno come regione del sud, forse la regione più in difficoltà l'ultima d'Europa per una serie di indicatori. Però la nostra posizione strategica anche al centro del Mediterraneo può essere un'opportunità, un'opportunità per l'intero sistema paese per migliorare questa nostra terra e quindi far crescere questo nostro territorio. Ecco perché da parte nostra c'è una grandissima voglia di impegnarci, di fare in modo di crescere in questa azione. Però c'è bisogno sempre di più, al di là delle infrastrutture che noi chiediamo alla nostra Salerno Reggio Calabria e in queste condizioni, c'è bisogno di più informazione in Calabria. Allora bisogna puntare proprio di queste ore la volontà della terza rete anche di rimanere la terza edizione del telegiornale qui nei tagli che ormai sono molto diffusi. Questo noi lo salutiamo in maniera molto positiva. Ma c'è bisogno ancora di più, c'è bisogno di investire su fibre ottiche, su banda larga perché questo è il nostro futuro. Lo faremo fino in fondo. Noi abbiamo una straordinaria opportunità dei fondi comunitari perché abbiamo milioni di euro a nostra disposizione e dovranno avere principalmente questa destinazione, miglioramento delle infrastrutture tecnologiche. Questa è la nostra sfida e su questo noi ci vogliamo. Grazie. 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 Grazie.